Siamo nel mitreo vicino a Duino, un mitreo molto antico, mi sale al II-III secolo d.C. Era un culto molto, diciamo, celebrato soprattutto dai soldati romani, a cui questo dio si rivolgevano per poter avere qualche grazia. All'epoca c'era una terribile popolarità dell'astrologia per cui ogni passo che si faceva era determinato dalle stelle. Il dio mitra era in grado di garantire il cambiamento del corso, del destino deciso dalle stelle, per cui molti soldati romani si rivolgevano lui, come vedete, ha un cranio allungato, la tipica mitra in testa, quella che dopo sarà utilizzata anche nella scultura cristiana, che viene portata dal Papa, e lo vediamo a cavaccioni di un toro, di un toro, può essere un leone, vediamo anche un serpente. Il culto di dio mitra era molto popolare nel II-III secolo perché gli dei più pubblici, Giove, Giunone, non erano in grado di fornire una grazia di questo tipo. Per questo si crearono delle sette, utilizzando soprattutto dei culti orientali, quindi il culto di Isis, Sabazio, Mitra, Bal, per cui rivolgendosi a questi dei, attraverso queste sette e pagando ovviamente, c'era la possibilità di ottenere qualcosa da questo dio, c'era una sorta di marcanteggiamento con questi dei. Qui questa grotta è tipica di Mitrae perché è un culto che si faceva soprattutto in spazi sotterranei, è una grotta carsica che è stata recuperata molto bene, devo dire, dalla sua intendenza. Questa è la pietra dei sacrifici che si trova al centro, ovviamente si venivano fatto dei sacrifici per ottenere la grazia da questi dei, da questo dio, in questo caso Mitrae, e diciamo che lo spazio sotterraneo è compreso in questa grotta carsica sul quale è stato costruito un terra pieno. Non è che tutti potevano presenziare ai culti di di Mitrae, era una setta, una setta che in particolare aveva, diciamo, riorganizzato la religione originale, aggiungendoci delle caratteristiche neoplatoniche per quanto riguarda su come sono le cose, perché le cose vanno avanti così. Però, diciamo, che tutto questo è stato cancellato intorno al IV secolo, quando è stata proclamata religione di stato il cristianesimo, e tutte queste religioni di origine orientale, ma che hanno state modificate e adattate, sono completamente scolparsi. Vediamo una bella stela lì. Dunque, come vedete, noi facciamo le nostre ricerche di archeacustica. In questo caso abbiamo cercato se esistono delle frequenze provenienti dal sottosuono, il che è molto probabile perché qui ci sono le fonti del timavo, quindi c'è sicuramente dell'arma sotterranea che produce dell'infrasuono. Usiamo registratori digitali, high-end, quindi di qualità, in grado di avere un'ottima banda sonora che va dall'infrasuono agli ultrasuoni e che ci permette di valutare tutto quanto la sonorità di questo luogo. Non c'è un vero e proprio fenomeno di risonanza all'interno che si può valutare molto facilmente con la seduta patuta delle mani, come trattiamo non c'è neanche un eco, quindi la cosa che ci interessa in questo caso è cercare le eventuali frequenze che siano in grado di modificare lo stato di coscienza delle persone presenti in questo luogo. Hanno di solito sempre dei meriti molto suggestivi che colpivano l'immaginazione delle persone che erano presenti, quindi con particolari veste, erano celebrati soprattutto la notte, quindi ci sono infatti intorno diversi spazi per le lampade ad olio per mantenere questa penombra e aumentare l'autorevolezza di questi rituali.